ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo interattivo oggi andiamo a vedere che cosa accadrà questa settimana parliamo della settimana in cui guardate questo video o della settimana successiva quindi allora vediamo subito con un oracolo come apriamo la settimana sono uscite due carte allora abbiamo la carta numero 53 lo sconosciuto curiosità la carta numero 64 le fate dei boschi flessibilità quindi direi che questa settimana questo alla prossima che cosa accadrà ci sarà qualcosa che cambia c'è una curiosità che emerge ci sarà qualcosa o che vi incuriosisce qualcosa che vi porta curiosità o che siete portati a dover andare a guardare la flessibilità mi porta proprio una situazione dove ci può essere un cambiamento di percorso un cambiamento di programma e quindi questo mi può portare curiosità ovviamente parliamo in tutti gli ambiti vediamo con le carte che cosa accadrà potreste sentirvi diciamo in controllo eccessivo molto freddi molto rigidi e inflessibili forse su qualche punto di vista non volete scendere a compromessi vedo che però per evitare delle discussioni per cercare di avere una stabilità un equilibrio e evitare magari degli scontri dei battivecchi dei litigi con qualcuno o per evitare che delle situazioni vadano troppo complicarsi diciamo diciamo gettate le armi e dite va bene non dico niente non faccio niente vedo che tutto questo può portarvi un'eccessiva ansia eccessivo stress addirittura forse degli incubi ed è proprio per questo che cercherete di eliminare tutti questi pensieri negativi più che altro è questo quello che dovete fare cercare di mandare via questa ansia quindi in certe situazioni mandate via ogni situazione di possibile litigio potrebbero esserci appunto delle comprensioni come se tu dice una cosa qualcuno ti dice un'altra come se tu hai delle idee e qualcuno te le controbatte ed è per questo che vi vedo molto più inflessibili più rigidi volete tenere sotto controllo la situazione volete avere vinta su qualcosa non volete spostarvi dalle vostre idee qua ti dicono che ci sarà un riequilibriamento dove si andranno ad eliminare questi pensieri che portano ansia stress e anche incubi per qualcuno di voi e queste situazioni di litigio vedo che ci sarà in qualche maniera la voglia di non litigare quindi come dire vabbè lascio stare lascio correre e vedo che grazie a questo ci sarà questo equilibrio ovviamente possiamo parlare di qualunque tipo di situazione vedo tra l'altro la riete il leone i gemelli e la bilancia in questa al momento come segni principali vediamo ancora che cosa accadrà in questa settimana questa o la prossima settimana concentrati ecco abbiamo già due carte che sono rientrate ci prendiamo quelle e abbiamo il diavolo e il 5 di bastoni di nuovo qua è rovesciato e qua è dritto e un 3 di denari ok le voglio andare anche a chiarire così da darvi più un'idea allora qua vedo che tutto ha a che fare con una complicità con un cercare di andare d'accordo cercare di lavorare insieme per la stessa cosa vedo che però c'è il vizio di qualcuno che vuole scavalcare l'altro qualcuno che vuole sempre avere l'ultima parola qualcuno che non vuole ascoltare quindi questo voler collaborare crolla perché c'è un eccessivo controllo da parte di qualcuno il voler avere sempre ragione voler sempre l'ultima parola e questo causerà ancora litigi dove magari qualcuno dice vabbè evito vedevo qua appunto non voglio litigare non voglio avere niente cercare di trovare un equilibrio e invece poi vedo che si ricade sempre lì voglio andare a chiarire appunto queste carte chiarisco anche il 3 di denari che era a fondo mazzo vediamo perché c'è il diavolo c'è il 6 di denari e il 5 di denari quindi direi che questo ha a che fare con qualcuno che si applica un po' di più quindi vedo qualcuno che è più propenso nel collaborare qualcuno che è più accondiscendente qualcuno che accontenta più l'altro qualcuno che dice vabbè cerchiamo di evitare di litigare sto zitto mentre l'altra persona vuole passa in secondo piano questa cosa e vedo che con questo 5 di denari a fondo mazzo l'altra persona quindi si sente non capita dice ma perché devo far tutto io e da parte tua non vedo nulla io mi sto impegnando mi sto impegnando e da parte tua non vedo questo contraccambio vediamo il 5 di bastoni perché c'è il 5 di bastoni va bene c'è il 7 di coppe che però mi è uscito a rovescio e di nuovo il 6 di denari come fondo mazzo quindi è chiaro che qua c'è qualcuno che fa di più qualcuno che fa di meno qualcuno che si impegna di più qualcuno che si impegna di meno e questo crea un caos incredibile crea molta confusione crea scompiglio fino ad arrivare a un litigio vero e proprio perché vedo una persona che si impegna di più a fare a cercare di andare incontro eccetera l'altra non lo fa e quindi una volta 2-3 questo porta un grande caos e di nuovo si ritorna da capo a litigare ad avere questi vatti vecchi vediamo il 3 di denari a fondo mazzo c'è un fante di coppe e il 9 di bastoni quindi direi direi che c'è una situazione questa situazione si protrae da tempo vada da tempo avanti questa situazione di conflitti è diventata molto pesante ma c'è comunque la voglia nonostante tutto questo casino questo uno che vuole sovra sovra andare sopra l'altro vuole proprio superarlo vuole avere sempre l'ultima parola vuole averla vinta nonostante tutto questo vedo comunque da quella persona che vuole sovraricare la voglia di collaborare e di andare avanti da parte di tutti e due c'è comunque la voglia di perseverare andare avanti e di mettercela tutta nonostante appunto che c'è questo qualcuno che fa di più e questo qualcuno che fa di meno vediamo adesso con le sibille ah tra l'altro volevo dire che sento molto forte il segno del capricorno e del leone allora vediamo con le sibille cosa accadrà non vuol dire che se non ho detto i vostri segni perché non parlo di voi assolutamente queste sono le energie ok cosa accadrà c'è la stella le stelle quindi ci sarà qualcosa delle novità dei desideri che si realizzano comunque si avrà il successo c'è qualcuno della quale vi potete fidare il cuore la volpe e gli uccelli quindi nonostante qualcuno possa sentire una certa una sorta di falsità di inganno qualcuno che agisce di nascosto che non in maniera ambigua qualcuno di voi quasi si sente tradito ferito vedo che in realtà c'è una situazione che vi porterà a riempirvi il cuore vedo proprio qualcosa che nasce di bello vedo anche che ci sarà comunicazione messaggi chiamate incontri ok allora vedo in realtà tante situazioni tra l'altro c'è qualcuno che magari può aver tradito c'è qualcuno che magari può aver detto non tutta la verità o c'è magari qualcuno che ruota intorno a voi che non è sincero ma non vi preoccupate perché voi avrete la meglio assolutamente avrete una soddisfazione a livello emotivo vedo comunicazioni che vi daranno piacere e vedo che vi potete fidare delle vostre sensazioni comunque quello che avverrà da qua in avanti potete fidarvi e avrete la meglio su una situazione vediamo ancora l'oracolo dei sentimenti cosa ci dicono della settimana che viene allora fondo mazzo abbiamo la carta del vuoto abbiamo la riconciliazione i segreti ripresa perdono coraggio competizione pensieri limitanti coerenza allora devo dire che in questo momento col vuoto non sapete bene esattamente ancora dove dirigervi c'è un po' di confusione ma ci sarà una riconciliazione nonostante da parte dell'altra persona forse non c'è ancora nulla il segreto mi viene come se non si è ancora fatto vivo non si è fatto sentire non c'è movimento ma ci sarà questa ripresa ci sarà il perdono quindi qualcuno perdona qualcun altro e vedo che qualcuno prenderà coraggio per ricominciare la competizione anche se qua praticamente in uscita due volte sembra quasi che qualcuno faccia questo passo avanti nonostante sappia che comunque ci sia successo questo quello e quell'altro ovviamente questo lo sapete voi vedo che però ci sarà una ripresa anche se al momento per voi non c'è molta fiducia su questo vediamo cosa vorrebbe comunicarti questa persona l'altra persona quindi pensa attentamente subito mi sono uscite non mi sento alla tua altezza ritornerò da te vorrei chiederti scusa ma sono troppo orgoglioso l'orgoglio l'avevo già visto prima con quell'imperatore a rovescio quindi effettivamente anche se questa persona vuole chiederti scusa perché si rende conto di quello che è di come si comporta di come parla eccetera c'è troppo orgoglio però per fortuna perlomeno ha capito di essere della parte del torto e ritornerà e ritornerà da te questa persona ritornerà da te in questo momento non si sente alla tua altezza perché sa che devi chiederti scusa sa che è intorto quindi non ti preoccupare perché è solo questione di tempo anche perché ci saranno cose nuove qualcosa che cambia vediamo il consiglio per te per la settimana a venire autorità equilibrio tra volontà e resa numero 42 fondo del mazzo obiettivi creazione numero 24 24 42 può essere che molti di voi vedranno i numeri a specchio tipo 24 42 o quando guarderanno l'ora magari saranno che ne so le 21 e 12 e così via quindi fate caso a a questi numeri e pensate a cosa stavate pensando in quel momento sono dei numeri a specchio quindi provate a pensare in quel momento che vedete questi numeri a che cosa potrebbe fare da specchio quella cosa che stavate pensando quando guardate quando vedete questi numeri ok comunque altro consiglio è cercare di capire con la giustizia e la vedo anche qua l'autorità vediamo questa bilancia dove ti dice di cercare di capire dove devi tenere testa a una situazione e dove invece devi lasciare andare e qua il fondo mazzo dice obiettivi creazione cerca di capire e di mettere già giù delle basi quello che vorresti fare quello che vorresti ottenere quello che vorresti dire magari a qualcuno prendiamo il libro delle risposte troverete troverete il link per tutte le carte in descrizione e nel primo commento in evidenza vediamo qual è la risposta per voi abbraccia i cambiamenti ti dice abbraccia i cambiamenti il cambiamento ci sarà e quindi tu accoglilo e abbraccialo qualunque cambiamento sia abbraccia i cambiamenti ricordati bene questo vediamo adesso fai la domanda che abbia come risposta un sì o un no concentrati e vediamo qual è la risposta alla domanda per chi guarda questo interattivo qual è la risposta alla domanda di chi guarda questo interattivo ok al momento è un no ma non penso che sia un no no e basta adesso è no allora se hai guardato fino qui lascia un fiorellino qualunque tipo di fiore va benissimo se lo farai ti ringrazio tantissimo se hai guardato e ti è piaciuto lasciami un like e condividi questo video con chi ti fa piacere se non sei ancora iscritto e passi qua per la prima volta e ti sei trovato bene iscriviti al mio canale clicca sulla campanella per essere avvisato per ogni video che io caricherò e ti otterrò una domanda gratuita che puoi farmi su whatsapp facebook instagram tiktok oppure per email io ti ringrazio tantissimo per aver guardato questo interattivo ci vediamo presto in un prossimo video